Marco Salgarolo, Roma Troodown, 2, 3 Aspetta che venga Allora, peso, di lanciare da 20 20, 1, 5, 2 e mezzo 5, allora torniamo Allora, 1, 2 e mezzo, 5, 10 10, 15 E di qua è uguale 15, i 10, i 5, 1 e i 2 e mezzo Aspetta a farlo tagliare Sbarre pulite 5, devi fare 5, 7, 9 La fai in quella alta Tutta di là Ci sono i 10 secondi Sei pronto? Vado Vado? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vai 1 2 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Siamo a un minuto Siamo a un minuto Dai eh Siamo a un minuto Siamo a un minuto Siamo a 2 minuti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Mettiamo i 5 Mettiamo i 5 Siamo a 3 minuti Siamo a 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti 3 minuti E si muove la sentenza Dai eh Cattivo eh Dai 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 Siamo in su 1 io non so come faccio licevolo là dietro è devastato forte 4 minuti e 30 1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo e 9 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 1 minuto e 10 8 40 20 20 20 secondi 20 20 10 10 10 10 5 4 3 2 1 20 21 21 23 23 24 25 25 25 20 25 25 25 25 25 26 Salute